Ci sono quasi 2 miliardi di euro per lavori sulle strade statali sarde fermi in regione a causa del mancato impulso del commissario straordinario per gli interventi sulla viabilità. Una carica ricoperta dal novembre 2021 dal presidente della regione Cristian Solinas e quanto denuncia Claudia Cameda, segretaria della FITICISL Sardegna. Sono 10 gli interventi in attesa e a oggi non è stata neanche nominata la struttura commissariale. Una situazione paradossale se si pensa che il grande vantaggio di questa gestione è la possibilità di accelerare i progetti e gli appalti. Eppure altre esperienze di gestioni commissariali come la Sassari Olbia o per il post alluvione Cleopatra con l'ANAS come soggetto attuatore, rileva la segretaria Cameda, hanno avuto un impatto positivo. Oltre alla statale 554 a rischio ci sono i lavori sulla statale 131 Sassari Olbia, sulla statale 130 Cagliari Decimo, sulla statale 291 Alghero Olmedo, sulla 195 per Pula e sulla 126 per Sant'Antioco. L'ANAS Sardegna, pur soffrendo per la mancanza di cantonieri e per il presidio del territorio, sottolinea la FITICISL Sardegna, si conferma come la prima stazione appaltante. Nel 2022 ha speso 75 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie, nel 2023 ne spenderà altri 80. Non si può perdere altro tempo, conclude la segretaria Cameda. Il commissario Solinas proceda celermente per evitare di perdere importanti risorse o prende atto della difficoltà di gestire questi interventi e li riporti in capo all'ANAS. Grazie. 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 Grazie.